GF VIP, Mikolin Curvaia triste dopo l'eliminazione, il vento mi portato la pala e stavo pensando proprio ai ragazzi. Nel corso della semifinale del GF VIP, Andrea Maestrelli e Luca Onestini sono stati costretti ad abbandonare la casa. L'eliminazione dei ragazzi ha così lasciato senza parole gli altri vippone e soprattutto una forte tristezza nel gruppo degli spartani che sognavano di arrivare in finale tutti insieme. Infatti, Mikolin Curvaia non ha voluto nascondere il suo dispiacere e Nikita Pelizzon. Il vento mi ha riportato la pala e in questo momento stavo pensando proprio ai ragazzi, ha sottolineato la concorrente. La prima a esordire al termine della diretta è stata proprio Mikolin Curvaia, sono allibita. Con lei, anche gli altri concorrenti come Edoardo Tavassi, Giaele e Donaio Riana Marzoli non sono riusciti a farsene una ragione ed hanno ipotizzato che probabilmente Onestini e Alberto De Pisi siano stati pensalizzati dal fatto che entrambi appartenessero allo stesso gruppo degli spartani. Una cosa è sicura, sebbene manchi solo una settimana a termine di questo reality. I VIP si dicono dispiaciuti di non poter trascorrere questi ultimi giorni nella casa con di non amico Luca Onestini. Aici, 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 mi-au avut haba. Aici, 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 poti che entrambi apparteni. Aici, 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 aici Grazie a tutti.